Ho visto gente sola andare via, sai, tra le macerie e i sogni di chi spera, vai. Tu sai di me, io so di te, ma il suono della domenica dov'è? Al mio paese vedo fiorire il grano a braccia tese verso l'eternità, il mio paese. Ho visto cieli pieni di miseria, sai, e ho visto fedi false fare solo guai. Che sei di noi, che sei di sé. Buongiorno a tutti coloro i quali in questo momento stanno seguendo Telemia, qui da Condoianni siamo nella chiesa di Sant'Antonio Abbate, si sta per celebrare la messa e noi in qualità di amministrazione locale, come anche tutti i cittadini, siamo felicissimi di avere Sua Eccellenza il Vescovo oggi in quittà. Ho visitato questo borgo che lui stesso ama tantissimo, un borgo sul quale questa amministrazione sta spendendo tanto, ci siamo concentrati ad accentrare numerosi finanziamenti proprio per ripristinare quelli che sono gli antichi splendori di questo borgo, partendo dal castello, come le vie di collegamento e il consolidamento anche di una parte del paese in questo momento, da un intervento specifico. Quindi siamo in un posto che rispecchia la storia, che ha necessità realmente di essere riportato in quello che è il suo antico splendore. Aspettavamo Don Giuseppe Zurtro che è il titolare della parola che non è qui, avremmo dovuto anticipare il Vangelo. E' sagra sia, purtroppo lo aspettavamo qui in diretta. Facciamolo chiamare nell'attesa appunto dell'anticipazione del Vangelo per questa Domenica del Borgo. Un borgo è vissuto in pochi in realtà perché ha resistito un po' lo spopolamento, sono poche persone. Sono poche persone, durante l'inverno abbiamo 100 persone residenti tutto l'anno, ma d'estate ha un incremento esponenziale di quelli che sono gli abitanti del posto, anche perché si è rilasso per anche le 500-600 unità e quindi c'è anche un ritorno a quello che può essere tutto ciò che è di affascinante questo borgo. In effetti viene posto l'attenzione di tanti. Grazie, grazie Sindaco. Eccolo, ecco Don Giuseppe per l'anticipazione. Buongiorno intanto, buona domenica. Grazie di essere qui. Benvenuti a Condoianni. E' una gioia e un piacere potervi accogliere e dare anche questo servizio attraverso la vostra emittente. Non molta gente da casa. Anticipiamo la pagina del Vangelo di Oggi. Sì, il Vangelo di Oggi di Marco ci parla di questa carità che va oltre. E' una gioia e un piacere potervi accogliere e dare anche questo servizio attraverso la vostra emittente. E' una gioia e un piacere potervi accogliere e dare anche questo servizio attraverso la vostra emittente. E' una gioia e un piacere potervi accogliere. 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 Alleluia, alleluia, oggi è questa con te, Gesù. E' una gioia e un piacere potervi accogliere. E' una gioia e un piacere potervi accogliere. E' una gioia e un piacere potervi accogliere. Con gioia, sapendo di non essere soli e di non essere abbandonati. Perché nei nostri piccoli paesi c'è un po' spesso questo senso di abbandono. E' come se fossimo rimasti soli, come se nessuno pensasse a noi. Non è così, non è così. Anche se siamo pochi, il Signore non ci abbandona. Ma se siamo pochi dobbiamo sempre conservare ancora di più l'unità fra di noi. Perché se siamo pochi e c'è la revisione, tutto diventa più difficile. Meno siamo, più uniti dobbiamo essere. Vogliamo allora chiedere al Signore che ci accompagni in questo cammino, ci sostenga e a Lui chiediamo anche perdono di tutti i nostri peccati. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la Tua misericordia, Kiri Eleison. Kiri Eleison. Cristo, che al ladrone pentito hai promessi del paradiso, Christe Eleison. Signore, che a Pietro hai offerto il Tuo perdono, Kiri Eleison. Dio Onipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra, l'uomo e l'uomo che la Signore. Noi Ti lo diamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, Ti glorifichiamo, Ti rendiamo grazie per la Tua gloria e ammenza. Signore, Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onipotente, Signore, Figlio di Uncenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnale, Dio Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra suffica, Tu che siedi alla resta del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che soccorri l'orfano e la vedova e sostieni la speranza di chi confida nel Tuo amore, fa che sappiamo donare tutto questo che abbiamo sull'esempio di Cristo che ha offerto la Sua vita per noi. Egli è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo Libro dei Re. In quei giorni, il profeta Elia si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, Ecco, una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse Prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò Per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose Per la vita del Signore e tuo Dio non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna. Dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Eliele disse Non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio poiché così dice il Signore Dio di Israele La farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Parola di Dio Loda il Signore e anima mia Il Signore rimane fedele per sempre rende giustizia agli oppressi dà il pane agli affamati il Signore libera i prigionieri Loda il Signore e anima mia Il Signore ridona la vista ai ciechi il Signore rialza chi è caduto il Signore ama i giusti il Signore protegge i forestieri Loda il Signore e anima mia Egli sostiene l'orfano e la vedova ma sconvolge le vie dei malvaggi Il Signore regna per sempre Il tuo Dio o Sion di generazione in generazione Loda il Signore e anima mia Dalla lettera agli ebrei Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo figura di quello vero ma nel cielo stesso per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore e non deve offrire se stesso più volte come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui in questo caso Egli fin dalla fondazione del mondo avrebbe dovuto soffrire molte volte invece ora una volta sola nella pienezza dei tempi Egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso e come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta dopo di che viene il giudizio così Cristo dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti apparirà una seconda volta senza alcuna relazione con il peccato a coloro che l'aspettano per la loro salvezza parola di Dio Grazie a Dio Alleluia 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 Beati i poveri in spirito perché di essi e il regno dei cieli Signore Sì e il regno dei cieli Signore si è avvenuto il regno del Signore e del Padre e del Spirito Santo Alleluia 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 Il Signore sia con voi dal Vangelo Nei banchetti una vedova povera parte parte del loro superfluo Lei invece nella sua miseria vi ha gettato tutto quello che aveva tutto quanto aveva per vivere Parola del Signore Alleluia Alleluia Siede questo paese piccolo paese ma bel paese della Locride ed è un momento all'ordine di unità di tutta questa comunità di questo comune un momento di unità che ci deve far prendere coscienza che oggi non possiamo più andare avanti da soli ma dobbiamo essere molto uniti da tutti i punti di vista sul piano civile sul piano sociale sul piano religioso perché se ci dividiamo poi abbiamo difficoltà ad andare avanti si dice che l'Unione fa la forza qui è vero questo come è vero ovunque l'Unione fa la forza ecco questa unità allora sul piano civile qui vedo il Sindaco l'amministrazione comunale rappresentata presente lo ringrazio per la sua presenza ecco questa unità a livello civile a livello religioso ringrazio Don Giuseppe per il servizio che presta in questa comunità e lui anche deve cercare un po' di dividersi per assicurare la sua presenza sia qui con Doiano sia a San Dilario nel centro storico sia a San Dilario Marina dove c'è più popolazione e lui cerca un pochettino di assicurare la sua vicinanza la sua presenza un po' questa realtà distribuita nel territorio ed è importante allora che da parte vostra di tutti ci sia questa collaborazione perché è chiaro che ognuno vorrebbe il prete la chiesa sotto casa ma non è più possibile magari la chiesa sotto casa sia ma non ci sono poi sacerdote non ci sono religiose religiose ecco non ci sono catechiste catechiste non ci sono ministri straordinari della comunione diaconi ecco tutto poi rende più difficile le cose allora ecco recuperiamo quel senso di unità nella chiesa che è fondamentale facendo anche qualche piccolo sacrificio quando c'è richiesto magari per andare a messa di fare qualche passo in più come del resto facciamo se dobbiamo andare a fare la spesa andiamo al centro commerciale non abbiamo paura di prendere la macchina e di muoverci allora si tratta un po' di fare le cose sapendo che quello che più ci costa ha ancora più valore quello che più ci costa ha più valore di quello che non costa nulla ecco ricordo che i nostri nonni i nostri genitori per andare a messa molte volte andavano alle ore del mattino dovendo congiliare il lavoro con la priera andavano prima a messa la mattina presto per poi andare nei cambi a lavorare è vero che i tempi cambiano però è tanto vero che la nostra fede deve continuare a sostenerci nel nostro cammino oggi la parola di Dio ci ha messo davanti alla figura di donne di due donne due vedove non so se qua c'è qualche vedova c'è qualche vedova signore loggia la vedova signore esalta il comportamento della vedova rispetto al comportamento di tanti che invece vivevano la loro presenza nella chiesa per mostrarsi per evidenziare se stessi e perché elogia la vedova che pur essendo una donna povera indifesa sola è quella che invece ha un cuore più grande degli altri e Dio manda le persone che hanno bisogno di aiuto proprio tra le vedove che meno mezzi hanno a disposizione e sono proprio queste che manifestano la provvidenza di Dio mettendo in comune dividendo le poche cose che hanno il profeta Elia è minacciato a motivo della sua fede in Dio è minacciato ed è costretto ad andare via a correre in luoghi deserti solitari si trovava in lungo indorrente dove non aveva nulla qualche cosa da mangiare e l'acqua di questo torrente ma dopo un lungo periodo la siccità finisce col provocare mancanza di acqua nel torrente mancanza di allora il signore dice vai vai a paese perché lì ci sarà una vedova rivolgiti a lei lui va a paese incontra la prima donna che incontra è una vedova e chiede da mangiare a questa vedova e quella dice ma io con mio figlio non ho nulla ho soltanto un po' di farina vediamo che cosa possiamo fare non lo rifiuta perché il profeta gli dice ma dai prepara una focaccia e mangiare in realtà con quella poca di farina che aveva prepara una focaccia ne mangia lui ne mangia la vedova ne mangia il figlio per diversi giorni ecco Dio attraverso questa vedova manifesta la sua generosità manifesta di essere provvedente di provvedere e soprattutto manifesta come il gesto di una donna povera ha un significato molto grande perché dona questa donna per accogliere il profeta quello che ha mette a disposizione la sua casa apre la sua casa come per dire che molte volte chi più ha più è legato alle cose che ha meno generoso è meno disponibile alla carità a fare del bene alle mani chiuse chi meno ha quel poco che ha lo mette a disposizione è quello che accade poi nel Vangelo nel Vangelo Gesù mostra come modello a tutti il comportamento di una vedova anche qui questa vedova che va al Tempio sente anche lei bisogno di partecipare alle necessità del Tempio però non ha nulla a pochi spiccioli diremmo due centesimi di euro due centesimi sapete non si prendono neanche da terra più qualcuno dice ma che cosa sono niente ebbene lei quei due centesimi che aveva rimette nel tesoro del Tempio nessuno la nota sapete che la nota Gesù perché quelle che si facevano notare erano i ricchi che mettevano tutte le loro mettevano le loro ricchezze nelle casse erano 13 cassette c'erano destinate a finalità diverse per mantenere il Tempio e nel mettere questo denaro lo rangiavano con forza per far fare rumore perché tutti potessero vedere l'offerta sostanziosa che questi donavano e Gesù vede proprio invece questa vedova che nessuno nota perché mette i suoi pochi spiccioli e Gesù dice vedete questa donna che ha messo due spiccioli ha dato il più degli altri perché ha dato tutto quello che aveva tutto quello che aveva per vivere quindi la sua offerta è ancora più gradita al Signore perché ha dato tutto quello che aveva senza farsi notare senza desiderio di essere notato al contrario e qui c'è una nota polemica da parte di Gesù nei confronti di quando frequentavano il Tempio con più assiduità gli scrivi dice guardatevi dagli scrivi che amano passeggiare lunghe vesti farsi vedere amano ricevere i saluti nelle piazze amano i primi posti nei banchetti però attenzione divorano le case delle vedove divorano le case delle vedove sfruttano gli altri essi dice Gesù riceveranno una condanna più severa Gesù in genere non parla di condanna in questo caso Gesù parla di condanna di fronte allo sfruttamento della povera gente di fronte allo sfruttamento di quella vedova ecco cosa vuole dirci Gesù con tutto questo egli non ama quella religiosità appariscente quella fede che si esprime in comportamenti che se non perderà gli altri vedete io sono cattolico io sono il vero cattolico io sono vero religioso la religiosità che Gesù ama è quella del cuore del cuore onesto del cuore buono del cuore generoso del cuore che dona senza far vedere quello che dona lo dice Gesù la destra non sa quello che fa la sua sinistra spesse volte quello che si dà si dà per essere visti per essere visti per essere visti degli altri e per essere rodati dagli altri non è questa la religiosità che piace al Signore è la religiosità del cuore del silenzio di chi dà ma dà con gioia generosamente ma non per farsi vedere dagli altri sia la nostra religiosità questa religiosità della vedova con Greta di chi veramente dona quello che ha lo dà col cuore e non per farsi vedere dagli altri io vengo in chiesa non perché voglio essere visto dagli altri o voglio essere detto questo è un modello di cristiano vengo in chiesa perché ho bisogno di ascoltare il Signore ho bisogno di incontrare il fratello o la sorella ho bisogno di aprire gli occhi sono le necessità di chi mi sta attorno ecco chi frequenta la chiesa deve lasciarsi illuminare da questi esempi che Gesù porta e la nostra offerta sarà gradita al Signore credo in un solo Dio Padre onnipotente creatore del cielo e della terra di tutte le cose visibili e invisibili credo in un solo Signore e Gesù Cristo unigenito figlio di Dio nato dal Padre prima di tutti i secoli Dio da Dio luce da luce Dio vero da Dio vero generato e non creato è la stessa sostanza del Padre per mezzo di Lui tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo e per opera dallo Spirito Santo si è ingarnato dal selva la Vergine Maria si è fatto uomo fu il giudizio per noi il cedoconzio pelato morì e fu sepolto il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture e salito al cielo si è nella destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria il giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine credo nello Spirito Santo che è il Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti credo alla Chiesa una santa cattolica e apostolica professo un solo lottesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti la vita del mondo che verrà Amen Fratelli e sorelle rivolgiamo il nostro ringraziamento e la nostra supplica a Dio Padre che ci colma delle sue benedizioni preghiamo insieme dicendo Padre di tenerezza ascoltaci Padre di tenerezza ascoltaci ti ringraziamo Padre per lo splendore e la generosità del creato insegnaci ad averne cura in modo umile e responsabile affinché tutti oggi e domani possano vivere in esso con gioia e gratitudine preghiamo Padre di tenerezza ascoltaci ti ringraziamo Padre per tutti coloro che liberi dall'attaccamento cieco al proprio interesse si dedicano alla cura della casa comune benedici il loro impegno preghiamo Padre di tenerezza ascoltaci ti ringraziamo Padre per i frutti della terra e per coloro che lavorano per assicurare a tutti noi benessere e nutrimento fortificali nel cuore e benedici le loro fatiche preghiamo Padre di tenerezza ascoltaci ti ringraziamo Padre perché hai fidato a noi tua chiesa il ministero della lode e della gratitudine manda su di noi il tuo spirito perché non si spenga mai il nostro canto riconoscente preghiamo Padre di tenerezza ascoltaci ti lodiamo Padre Santo fonte di ogni bene che ascolta le grida del nostro cuore e sempre ci benedici per Cristo nostro Signore Amén Nella terra baciata al sole lavorata l'umanità da segnare l'umma di Nella terra di l'entra l'unni sottos zz sudore di l'umma benedetto sei tu Signore il Dio dell'Universo e la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e tutto la terra e l'amore dell'uomo che si chiama te perché diventi per noi cibo di vita eterna benedetto sei tu Signore il Dio dell'Universo e la tua bontà abbiamo ricevuto questo vino e tutto la vita e l'amore dell'uomo che si chiama te perché diventi per noi bevando di salvezza benedetto nei secoli Signore umile e prendita col Gio Signore che sei credito per il sacrificio che oggi si ponde per te la mamma Signore purificando il mio peccato Pregate fratelli e sorelle perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente il Signore diceva dalle tue mani questo sacrificio allora gloria a Dio e 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 a Dio Padre volgi benevolo il tuo sguardo su queste offerte perché celebrando nel mistero la passione del tuo figlio vedremo con amore fedele per Cristo nostro Signore il Signore sia con voi in alto i nostri cuori rendiamo grazie al Signore nostro Dio è veramente cosa buona e giusta nostro dovere fonte di salvezza rende le grazie sempre ed in ogni luogo a te Signore Padre Santo Dio onnipotente ed eterno tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi ed hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni all'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo perché fedeli interpreti dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te per Cristo Signore nostro e noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra lode acclamando con vestosa insultanza santo 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 del signore dio dell'universo l'universo i cieli e la terra sono pieni della tua gloria osana 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 pecato dei cieli vedete tutti che viene nel nome del Signore Padre veramente santo sei tu fonte di ogni santità ti preghiamo santifica questi doni con la ruggiata del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo egli consegnandosi volontariamente la passione prese il pane rese grazie e lo spezzò lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e manzatele tutti questo è il mio corpo offerto il sacrificio per voi allo stesso modo dopo aver cenato presi il calice di nuovo terese grazie lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e bevetene tutti questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati fate questo in memoria di me mistero della fede annunciamo la tua morte o signore proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio ti offriamo padre il pane della vita e il calice della salvezza ti rendiamo grazie perché ci resti degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo ricordati padre della tua chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi nella sua vita immortale rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco il nostro Vescovo Francesco che presiede questa Santa Liturgia i Presbiteri e i Diacoli ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto di noi tutti abbi misericordia donaci di aver fatto la vita età insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio con San Giuseppe suo Castissimo Sposo con i Santi Apostoli tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo figlio canteremo la tua gloria per Cristo con Cristo ed in Cristo a te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo ogni onore gloria per tutti i secoli dei secoli il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli possiamo dire Padre nostro che se ne c'era sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come c'era così in terra dai c'era il nostro pane che viviamo rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla condizione ma liberaci dal male liberaci o Signore da tutti i mali concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misi ricordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si conghia la beata speranza venga il nostro salvatore Gesù Cristo Signore Gesù Cristo che ha detto ai tuoi apostoli vi lascio la pace vi do la mia pace non guardare i nostri peccati ma la fede della tua chiesa dona le unità e pace secondo la tua volontà tu che viveregli nei secoli dei secoli la pace del Signore sia sempre con voi scambiatevi il dono della pace agnello di Dio che toglie i peccati del mondo agnello agnello di Dio che toglie i peccati del mondo agnello di Dio che toglie i peccati del mondo non la tua voce ecco ecco l'agnello di Dio ecco 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 che toglie i peccati del mondo veate gli invitati alla cena dell'agnello ma vi soltanto una parola e io sarò salvato ecco l'agre ecco l'agre amen Grazie a tutti. Corpo di Cristo. 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 Tu la luce che ti schiarà, tu la voce che ci chiama, tu la gloria che dai vita ai nostri sogni. Ma staggi Signore come stai, sei presente nel mistero e nel tuo amore, chiamati col nome che vorrai. Tu la luce che ti schiarà, tu la voce che ci chiama, tu la gloria che dai vita ai nostri sogni. Con te faremo con sei raggi il cammino che percorreremo insieme. Di te si metti a noi guardi, la speranza che risprenderà nei morti. Tu l'amore che ti schiarà, tu il sorriso che ci aiuta, tu la voce che dai nostri sogni. Tu la luce che ti schiarà, tu la luce che ti schiarà, tu la gloria che ci schiarà. una cosa che la luna e i nostri giorni. Tre faremo cose grandi il cammino che percorreremo insieme. Si te si sentirà non guardi la speranza che risprenderà nei nostri giorni. Tura luce che rischiarà, pura voce che ci chiama, pura voce che ravita i nostri giorni. Preghiamo. Preghiamo. Nutriti dei tuoi santi doni, ti rendiamo grazie al Signore e imploriamo la tua misericordia per il tuo spirito comunicato a noi in questi sacramenti. Ci sia data la grazia di rimanere fedeli nel tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amo. il Signore sia con voi e con tutti i nostri figli. Sia benedetto il nome del Signore. e con tutti i nostri figli. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E ne affatto il cielo in terra. vi benedica Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amo. Glorificate il Signore. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Glorificate il Signore. Bene, ringraziamo il Signore di questo momento. Ecco, avete preparato bene questa liturgia attraverso questi canti. E vedo che il minato microfonico qui è eccezionale. Funziona bene. Quindi possiamo ascoltare bene la parola del Signore. Io tornerò tra di voi. Tornerò perché riprenderò la visita pastorale inizia da questa vicaria che viene al centro dopo aver visitato la vicaria del sud. È una visita pastorale che è stata rallentata dal Covid ma intendo portarla avanti con l'aiuto del Signore. Quindi riprenderò proprio da San Dilario credo in dicembre. Poi congorderemo con il parlo, congorderemo il tempo, gli orari. Il mio desiderio è poter incontrarvi un po' più da vicino, con più tempo, poter visitare qualche famiglia, soprattutto quelle famiglie che sono più toccate dalla sofferenza, dal dolore. Lì andrò a casa. Chiaramente non potrò visitarle tutte ma andrò soprattutto dove c'è più sofferenza, c'è più povertà. Ci incontreremo anche in chiesa, in assemblea. Ecco, perché siamo in un cammino sinodale adesso. C'è lì ascolto, ascolto reciproco, ricordandoci che noi non siamo fatti soltanto per parlare, ci siamo fatti anche per ascoltarci, per accogliere i bisogni gli uni degli altri e per condividerli. Ma soprattutto siamo cristiani perché intendiamo ascoltare la voce di Dio. E il Papa ci ricordava che ascoltandoci reciprocamente ascoltiamo la voce del Signore. Questo è molto importante. Per cui, a breve, ritornando qui, ci sarà questa occasione di reciproco. Io mi arricchisco ascoltando voi, voi ascoltando me e soprattutto ascoltando i bisogni della gente. Questa chiesa non dovrà essere chiusa. Se c'è qualche problema a livello strutturale, vedo anche qualche infiltrazione anche di umidità, vedremo come risolvere questo problema. Convidiamo nell'ombolo della vedova. Convidiamo, perché siamo certi che, ecco, non possiamo aspettarci la soluzione dei problemi. Dall'alto nessuno ce li risolverà i problemi. Dall'alto voglio dire, ecco, dall'esterno, ma con la buona volontà, desiderio della partecipazione di ognuno, riusciremo a risolvere i problemi più bravi. Ma la Chiesa dovrà restare aperta, per come mi auguro che parlava col sindaco prima, che questo bel paese continui nella sua storia, nel suo cammino, con un'attenzione anche particolare da parte delle istituzioni. Ci sono opere pubbliche, vedo il castello in Restalma, sicuramente ci sono altri interventi da fare, perché questo luogo possa essere abitabile. Perché se è abitabile e ci sono le condizioni per essere abitato, la gente non va via, altrimenti sarà costretta ad andare via. quindi, ecco, questo è il nostro impegno da portare avanti, grazie anche alla collaborazione dell'amministrazione comunale e delle istituzioni in genere. Buona domenica a tutte e per ritorno alle vostre case. Grazie a tutti. 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 Ho visto gente sola andare via, sai, tra le macerie e i sogni di chi spera. Vai, tu sai di me, io so di te. Ma il suono della domenica dov'è? Al mio paese vedo fiorire il grano, la braccia tese verso l'eternità. il mio paese, ho visto cieli pieni di miseria, sai, e ho visto fedi false fare solo guai. che sai di noi, che sai di me. Il suono della domenica dov'è? Al mio paese vedo falciare il grano a mani tese. verso l'eternità il mio paese. verso l'eternità il mio paese. il cuore cia. Grazie a tutti